La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben ritrovati con la rassegna stampa di Uno News, oggi è mercoledì 28 gennaio. Le notizie di oggi, l'elezione del capo dello Stato sabato, secondo il mattino ci sarebbero intese tra Renzi, Forza Italia ed NCD. Oggi Berlusconi e Renzi si incontrano, ci sarà un vertice, il nome che si sta facendo avanti è quello della senatrice del PD, Anna Finocchiaro. E poi non finiscono i guai per il Comune di Salerno ma anche per il Sindaco De Luca dopo la condanna degli ultimi giorni. Un'altra condanna si associa, quella della Corte dei Conti, per una nomina irregolare, quella del Vice-Segretario Marotta. Il Sindaco De Luca ma anche gli ex dirigenti dovranno risarcire il Comune di Salerno. Intanto ancora la politica, le primarie del PD sono state slittate al 22 febbraio. E poi ancora c'è un allarme jihadista a Sarno, sospetti su tre immigrati. Intanto questa è la prima pagina del mattino nazionale. Quirinale, patto su un politico, intesa tra Renzi, Forza Italia ed NCD, non ad un tecnico. Movimento 5 Stelle, altri 10 in fuga. Rinviato ad oggi l'atteso incontro tra il Premier e Berlusconi, l'Italicum, ok del Senato, la minoranza PD, si astiene. Leggiamo brevemente. Intesa quindi tra Renzi, Forza Italia ed NCD, sarà un politico a prevalere nella scelta del designato per il Colle. perdono intanto quota nei ragionamenti sul toto Presidente, sia le chance del Ministro Padoan, sia, ma in manzura più misura minore, quelle del Presidente del Senato Grasso. E oggi si tiene il vertice tra il Premier e Berlusconi. Sli Silvio e Matteo si vedranno all'ora di pranzo a Palazzo Chigi in una sede istituzionale. E Berlusconi ci arriverà dopo aver incontrato Alfano. Il nome che sale in queste ore per il dopo napolitano è quello della senatrice del PD, Anna Finocchiaro. Il focus, l'appello al governo, un ministro esperto per il mezzogiorno. E poi l'intervista, ma caluso votare tre schede bianche, segno di incertezza. E ancora leggiamo il titolo dell'analisi di oggi, perché serve continuità con Napolitano. E poi ancora di spalla le inchieste del mattino, quest'oggi si parla di telemarketing e l'assalto ai cellulari. Ecco chi viola la privacy sui telefonini. E poi ancora a centropagina la storia toccante della bimba di Scampia in rianimazione al Monaldi. Per lei serve un cuore, appunto per salvarla. Lei è la piccola Irene, la bimba di Scampia, che ha commosso l'Italia. E poi ancora accanto, attacco ai cantieri TAV, condanne per 140 anni. Oggi il processo per istigazione allo scrittore Henry De Luca. La sentenza dopo due anni di udienze, guerriglia coordinata. Gli accusati cantano bella ciao. La riflessione, i predicatori della violenza. E ancora andiamo in basso. Bombe a Tripoli, esteri terroristi, alle porte. Attentato dell'ISIS nel centro della capitale libica. 13 morti, allerta, anche in Italia. E poi Roma in crisi, parliamo di sport, il Napoli può sognare. Cura Benitez, Higuaín, leader. La rimonta al secondo posto è possibile. Allarme bianchi, rischio legamenti. Parliamo di Salernitana. Andiamo all'interno per parlare di politica sulle pagine del mattino. Ed ecco allora che il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dice vuole garanzie. Ma sembra essere d'accordo sul nome della Finocchiaro. Il Cavaliere teme le marginalità del SELP di Tornaunito. E si arriva il sostegno dei transfughi del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti con un'altra pagina. Quella del mattino di Salerno. Quindi leggiamo le notizie che ci riguardano più direttamente. Notizia della nostra provincia. Ed ecco la notizia sul comune di Salerno. La stangata della Corte dei Conti. Stipendio d'oro al vice segretario del comune. Marotta condannati De Luca. E la terza giunta. Maxi risarcimento da 600 mila euro. Marotta si difende. Rifarei tutto. Movimento 5 Stelle all'attacco. Record di sprechi. E poi ancora leggiamo più da vicino. Il titolo delle interviste del mattino. Buon aiuto. L'assessore. Bilanci in rosso. Mancano 31 milioni. E questo l'allarme lanciato. E poi l'intervento. Il messaggio di Pierro. Nelle poesie. E ancora leggiamo accanto. Ancora notizie di politica. Del PD. Un altro rinvio delle primarie. Slittate appunto al 22 febbraio. E ancora centropagina. Neonato morto. Pasticcio e prescrizione. Anche il terzo giudice. Rifiuta l'incarico. Scadono i termini del processo. Contro i medici. Il fascicolo smarrito e ritrovato. Nel trasloco dall'ospedale di Eboli. A Salerno. E la famiglia aspetta la verità. E poi il caso. Frana killer a Sarno. Scatta la corsa ai risarcimenti. E ancora leggiamo l'economia. Intesa. Aeroporto. Declassamento. E tagli da 150 euro. Due sottopassi nel terminal bus. Rivoluzione. Nel nome di Francesca. Parliamo della ragazza che purtroppo è morta all'Università di Salerno. Investita da un pullman. Non si arresta il pressing dei sindacati. Il tentativo di rafforzare gli standard di sicurezza dei campus universitari. Non solo di Fisciano ma anche di Baronissi. Andiamo all'interno delle pagine di Salerno. Ed ecco in primo piano la condanna ulteriore al sindaco di Salerno dalla parte della Corte dei Conti. Leggiamo più da vicino. Stipendi d'oro, vicesegretario De Luca e assessori condannati. Stangata dai giudici contabili. Marotta nominato senza titoli. E appunto leggiamo in alto. Poche righe dell'articolo. Neanche la possibilità di tornare materialmente a sedere sulla sua poltrona. Neppure il tempo di riprendersi dalla condanna penale per abuso d'ufficio. Che un'altra condanna di natura contabile gli si è abbattuta tra capo e collo. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Campania. ha condannato il di nuovo sindaco Vincenzo De Luca, parte della sua vecchia giunta. E due dirigenti comunali a risarcire al comune la somma di 605.864.000 euro. Per la nomina di Felice Marotta in assenza di titoli a vicesegretario comunale nel periodo 2006-2011. Andiamo avanti con le altre notizie. Sempre la politica. Questa volta ci spostiamo nel centro-destra. Ed ecco le manovre per le intese verso le regionali. Caldoro, le leadership non si impongono così. Il presidente attacca i democratici. Gli anni di Bassolino alla regione sono stati più bui. La polemica migliore governava con Gervolino De Luca e Cozzolino, artefici del disastro. E ancora leggiamo, leggiamo più in basso, strappo di Adinolfi, Roscia, coordinatore cittadino di Salerno di Forza Italia, attacca Cirielli e dice lui è un regista. E il governatore telefona a Maracarsagna. Carfagna, lavoro per l'unità. Non arretreremo sul modello Salerno la mossa di Adinolfi, forse ispirata da manovre di Cirielli. Questo lo dice appunto il coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Fasolino. Dice grave errore dividersi, il centrodestro dovrà affrontare e vincere la sfida riformista nella città capoluogo. La mediazione Caldoro rassicura Carfagna sulla scelta di costruire una coalizione coesa. Gambino scrive ai militanti azzurri, Forza Italia ha fallito, votatemi. E poi ancora passiamo alle notizie della provincia del Cilento, Vallo di Diano. Ecco la pagina del mattino. E allora leggiamo il titolo di apertura. Mille cacciatori contro i cinghiali, Vallo della Lucania, danni alle colture e aggressioni nei campi. Scattano le contromisure. Sono ormai due milioni l'allarme di col diretti, due milioni appunto ai cinghiali pericolosi. Vanno abbattuti la salute, gli animali possono trasmettere alle mandrie, la trichinella, pericolosa infezione. E poi Montesano sulla Marcellana, stazione Eterna, il GIP, avanti con le indagini. Rigettata la richiesta di archiviare i controlli su eventuali irregolarità. Centro disabili, il manager ASL non si chiude. Parliamo dell'Istituto Juventus di Vibonati, che continuerà a realizzare, a portare avanti le proprie attività anche oltre il 31 gennaio. E poi sempre Vallo della Lucania, rabbia operai per i colleghi licenziati, continua la protesta dei lavoratori barricati negli uffici del consorzio. Montera porta a Canfora, il presidente della provincia di Salerno, la relazione dell'avvocato risposte entro dieci giorni. La polemica, il PD, il commissario, sta affrontando gli errori fatti dal centro-destra. E poi Laureana Cilento, strada chiusa per Frana, altri sette giorni di stop. E poi vi portiamo il metano e spillano soldi agli anziani. La truffa, Vallo della Lucania, avvocati alle urne. Da oggi ha messa la seconda lista. Andiamo a leggere la prima pagina della città di Salerno. Eccola, in edicola quest'oggi, in apertura, sempre la questione Salerno. Assessori, risarcita il comune, i giudici della Corte dei Conti condannano il sindaco e l'aggiunta a versare 55 mila euro a testa. Motivo? La nomina del vice segretario generale Marotta. E loro dicono non paghiamo, ricorreremo in appello. E poi l'inchiesta? Fare impresa a Salerno così crescono le start-up. Spettacoli, ritornano gli Ape Escape, ma sono orfani di Toni. E poi Salernitana, Negro vuole andarsene, Fabiani pensa a Barraco. E poi a centropagina, la sicurezza al campus di Fisciano, pronti 30 milioni per intervenire. Gli altri titoli, le regionali, nuovo rinvio per le primarie PD, sfida di De Luca, si faranno il 22 febbraio. E poi il caso, rimuovete l'amianto dal castello, si parla del castello di Agropoli. E poi ancora i titoli delle analisi di oggi, nuove regole, vecchi ceti dirigenti, orrendo, Isis così vicino al nazismo. E poi ancora Giad, sospetti su tre immigrati, allarme estremismo a Sarno, acquisiti gli atti sui soggetti a rischio. Cava dei Tirreni nelle case popolari, tra acque e umidità. Valle dell'Irno, bollette della Gori, pagamenti prorogati. E poi sbarcano le donne di Manara, il maestro del fumetto festeggia a Salerno i suoi 70 anni. Opere e ambiente, lo scontro sul Fuenti a proda in Cassazione. E poi viabilità, un anno di stop per la Cilentana, lavori a rischio. Andiamo brevemente a leggere le notizie invece che vengono dal Cilento, sulla pagina della città. E allora leggiamo l'apertura sulla viabilità, la Cilentana, chiusa da un anno e i lavori rischiano lo stop. Alla frana di località Gorgo si aggiunse il cedimento di due piloni su un viadotto. La delibera dei fondi è ferma, a breve saranno bloccati gli interventi già appaltati. E poi c'è stato un sopralluogo del genio civile a San Rufo, decisi i rimedi ma il transito è interrotto. Parliamo della frana proprio dell'altro giorno sulla statale 166 degli Alburni che per fortuna non ha provocato danni a persone o cose. E allora il centro Juventus non si sposta da Vibonati. L'annuncio del sindaco Marcheggiani che continuerà il centro a restare aperto anche dopo il 31 gennaio. Respinto il ricorso della Terna, il GIP rigetta l'archiviazione, nuove indagini sulla centrale elettrica a Montesano. E poi Pollica, maxi di scarica sequestrata nel cuore del parco, Ponte Cagnano allontanate, nuove prostitute, tre fedeli in preghiera a Sala Consilina per l'unità dei cristiani. Restate con noi, c'è la seconda parte, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio per continuare la nostra rassegna stampa di mercoledì 28 gennaio. Ecco le cronache, leggiamo il titolo in apertura, il Salasso, 600 mila euro, si parla della nuova condanna della Corte dei Conti al Comune di Salerno, ma in particolare al Sindaco e ad altri componenti della Giunta. Sul tavolo la nomina di Felice Marotta, vice segretario che replica, rifarei tutto e di più se possibile. De Luca, gli assessori Guerra, Picarone, Breda, Fiore, De Maio, Avossa, Maraio, condannati tutti a pagare 600 mila euro appunto in totale come risarcimento al Comune di Salerno. E poi Della Rocca non rapinò la giochileria Margherita. Luca, scagionato da ogni accusa, ora vuol denunciare il titolare del negozio di Pastena. Resta indagato l'altro imprenditore del Ninno, ma la polizia ha individuato il vero colpevole. E poi parliamo a centropagina di politica. Il peggior migliore, il gioco di parole per rivolgersi a migliore al deputato PD, che si candiderà alle primarie del PD. Di confermato il rinvio intanto della votazione al 22 febbraio, il sindaco dice da Lotti solo un sms, sono candidato. E poi la giornata della memoria, ieri, gli acuzzo alla consulta degli studenti, non accada mai più. Ovviamente si parla dell'eccidio ebreo da parte dei nazisti. E poi Fabiani va su Maritato per rafforzare l'attacco. L'attaccante arriva dal Vicenza, Negro resta in bilico. E poi andiamo a Battipaglia. Il processo slitta ancora il caso del neonato morto alla Venosi, l'odissea infinita dei Torruzio. E poi Cava dei Tirreni, senatore, dice rappresento un mondo civico. Andiamo nella pagina interna della provincia di Le Cronache. Ed ecco la pagina del Diano. Leggiamo in apertura la veglia tra le fiaccole, riportateci la Madonna. Si parla di Polla, la statua rubata dalla storica chiesa di San Pietro Apostolo. Le indagini dell'arma proseguono intanto gli accertamenti da parte dei carabinieri, della locale stazione e della compagnia di Sala Consilina. L'omelia toccante del Vescovo De Luca. E poi ancora Montesano sulla Marcellana. L'inchiesta in corso a Lago Negro, stazione elettrica Terna. La novità è che la procura ha riaperto le indagini appunto sulla stazione Terna. E ancora Bibonati, centro Juventus, spiragli dal Summit che c'è stato ieri a Bibonati. Il centro Juventus appunto non chiuderebbe il 30. E poi ancora pulizie e servizi all'ex ospedale, rischio mancato rinnovo. Sant'Arsenio, Asl, non riformulerebbe i contratti in scadenza da febbraio. I sindacati scrivono al manager squillante. E poi Atena, Lucana, volo delle aquile, progetto emozionante. Casa al buono, il tardiano che preoccupa tutti. Passiamo su un'altra prima pagina, quella di Metropolis. In apertura sempre il caso De Luca, la nuova condanna della Corte dei Conti. Che condanna appunto De Luca. Condanna bis Marotta, vice segretario al Comune senza laurea. La Corte dei Conti torna a sanzionare il sindaco De Luca. Coinvolti dirigenti e amministratori. C'è anche l'ex Granata Roberto Breda, già assessore allo sport con De Luca. Primarie rinviate, le primarie del PD per le regionali rinviate al 22 febbraio. E poi Scafati, caso parcheggi, scatta la rivolta. E sempre a notizie dall'agronocerino, Scafati finanza al centro Anziani, scontro a Liberti, minoranza. Nocera, Romano fuori dal PD, consiglieri all'attacco, fuoco sulla commissione di garanzia. C'è una diversità di trattamento. E poi titoli su Salerno, sventata truffa a coppia di attori teatrali. E poi Adangri, fiammata dalla stufa, grave, una 84enne. Battipaglia, pizzo sulla sosta, abusivo, arrestato. E poi ancora cronaca, blitz, droga, colpito il clan Falanga, in manette, tre salernitani. E poi titoli di sport, salernitana Lazio, flirt per l'attaccante, pressing su Tunkara. E poi Lega Pro, Paganese, un altro rinforzo in difesa, arriva a Galloppo. Serie D, battipagliese, sbarzaglia. Adesso compro tutto. Passiamo alla pagina interna, quella della provincia. Allora leggiamo le notizie che ci propone Metropolis. 5 euro per la sosta, arrestato parcheggiatore abusivo a Battipaglia. Accusato di aver minacciato un'automobilista di Salerno a Battipaglia, al rifiuto della richiesta di pagamento, ha tentato di aggredire la vittima. E ancora ai domiciliari, Bruno Cardellicchio è indagato per tentata estorsione, agiva senza titolo in piazza Nenni. E poi le notizie in pillole, pollica, riscarica abusiva, denunciati in tre. Agropoli, Ingoia, Caramella, salvata una bambina. Cilento, mille cacciatori contro i cinghiali. E poi Diano, giovani flautisti, borse di studio. E ancora leggiamo altre notizie. Capaccio, no? All'inceneritore, comitato di cittadini in vita alla mobilitazione, conferenza dei servizi, convocata a Napoli. E poi Eboli, ridateci i figli, appello ai giudici da una coppia, piccoli in affidamento dopo una lite. E infine, sala Consilina, centrale Eterna, proroga delle indagini. Era l'ultima pagina per oggi, grazie per essere stati con noi. Le prossime edizioni dell'informazione con Uno News alle 13.45 con il telegiornale. Seguiteci per gli approfondimenti sul sito unotvweb.it. A tutti un grazie e buona giornata.